Il termine Pasqua deriva dall'ebraico Pesach, che significa passare oltre. Per i profughi in fuga della guerra in Ucraina, mai come quest'anno la Pasqua è sinonimo di passaggio, dalle atrocità del conflitto alla pace di un'Europa che ha dimenticato il suono delle sirene che annunciano imminenti bombardamenti, ma anche di un viaggio di ritorno verso casa, che in tanti ormai stanno affrontando o programmando per tornare nella propria terra e scoprire quel che è rimasto del tempo prima della guerra, come nella rivelazione di un'epifania. Olga Nezzurina è una volontaria del centro di accoglienza dei profughi di Porta Nuova Pescara, in Italia ormai da 32 anni. Insieme ad altri suoi connazionali, in piazza Vittoria Colonna, aiuta gli ucraini a familiarizzare con una lingua nuova. È lei a raccontarci i momenti della primissima accoglienza, ma anche quelli della partenza, di chi decide di fare ritorno a casa, nei territori ora liberi dall'invasione dell'esercito russo. L'ho incontrata famiglia di sei persone che mi hanno detto «Olga, abbiamo deciso di tornare perché le nostre città adesso vicino a Kiev sono liberate, comunque abbiamo genitori anziani, siamo molto preoccupati per loro, perciò abbiamo deciso di tornare». Il problema di ritorno di tantissime ucraine è, prima di tutto, città distrutte all'est, tipo Kharkiv, tipo Mariupol, tipo Cernigo, famose città vicino a Kiev, eccetera, eccetera, ma non solo. Queste città, i nostri nemici, li hanno lasciati minati, campi minati, hanno minato anche giocattoli di bambini, hanno fatto veramente le cose terribili. Perciò prima di tornare tutti quanti, che tutti vogliamo tornare là nel nostro paese a far ricostruire, ristaurare e diventare ancora più libero e più bello, dobbiamo aspettare tempo che vengono smenate tutte queste città. E qualcuno che è già ritornato, l'avete sentito, vi ha raccontato? Non ancora, perché non è una cosa facile, a parte che in Ucraina non ci sono più le strade, perciò se prima io ho fatto tante volte questo viaggio, sia in macchina che in aereo che in pullman, dovevamo mettere tipo due giorni, 48 ore per arrivarci. Invece che come adesso strade sono tutte bucate, rotte, per attraversare anche 200 km ci vogliono 17 ore. Perciò quelle che sono tornate lì purtroppo non abbiamo ancora un esempio, una esperienza di questo genere, però avremo la settimana prossima sicuramente. Olga, che Pasqua sarà per chi ha deciso di tornare e per chi invece ha deciso di restare? Dipende sempre da quelle che continua a fare il presidente, dei nostri nemici, non voglio neanche pronunciare perché veramente sta facendo cose gravissime. Pasqua da noi sarà il 24, dipende sempre da che genere di guerra stanno subendo le nostre città ucraine, c'è comunque Putin ha riunito la nostra Ucraina in tutti i modi, come non siamo mai stati uniti, perciò sarà una bella Pasqua. Come si dice, Olga, buona Pasqua in ucraino? Sia sliva i Pasche! Sia una buona Pasqua per tutti davvero. Grazie.